Sposerò intorno ai 40 anni con una ragazza che non potrà avere più di 20 anni, ovvio. Adesso lei sta frequentando l'asilo? Non mettetemi agitazione. Quella col topo. Sì. Se io vado davanti alle scuole a sbirciare un po' chi possa essere la mia futura moglie, è nel mio pieno diritto di marito previdente o sono soltanto un pedofilo?